Musica Ma sei ancora lì in pigiama sul divano? Sbrigati a prepararti che gli amici ci aspettano per cena Va bene Sono pronto? Andiamo? Un minutino Oh ma sei pronto o no? Un minutino Adriano ma cosa stai facendo? Stavo aspettando no? Solo che qua non arriva nessuno E allora io quasi 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 me ne vado Anzi no Quasi quasi resto Un minutino Ragazzi ve lo giuro La cosa che mi fa più impazzire dopo la cabina telefonica Sono le città organizzate In polma Un minutino Stanchi di passare la vita ad aspettare? Ho la soluzione che fa per voi Pronta subito E che cos'è? Pronta subito È un dispositivo di nuova generazione Molto semplice da utilizzare Basterà premere questo pulsante Per diffondere nella casa Gli effetti sonori dei vostri divertimenti preferiti Così facendo Si andranno a stimolare i recettori Di una zona cerebrale Molto importante nella donna La scassus minchiam Insinuando il sospetto nella donna Che voi vi stiate divertendo Mentre lei si sta preparando Potrà accelerare il processo di gestizione Fino al 3000% Ma prego Provi lei Buonasera siete collegati Con lo stadio Meazza in San Siro Tra poco dunque Sono pronta? Visto? Ed oggi Per i casi più disperati C'è pronta subito speciale Champions League Ancora più efficace Contro il problema dell'attesa infinita Pronto? Sbrigati che sono in macchina In macchina? E da dove sei passata Che ti sto aspettando davanti alla porta Dalla finestra Dalla finestra Allunga la tua vita Con pronta subito E pronta subito speciale Champions League E apre pure il cancello Attenzione a usare con cautela Pronta subito può causare dipendenza Un minutino Un minutino Qui ti sto aspetto a E qui ti sto aspetto a